primo settembre 2023 siamo alla spiaggia dell'avena continua il super giro e in questo video vedremo la spiaggia dell'avena e poi la scogliera dei draghetti possiamo entrare da questa parte riprese con gopro hero 11 in 4k 60 fps super view e sono sempre sul mio evolution 2.0 in carbon kevlar vacuum system infusion della nautica manino 3.0 in contenuto meglio quello e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati e ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche e già che ci siete condividete sui social i video che preferite se volete potete seguirmi su strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio volendo potete seguirmi anche su instagram dove trovate foto e reel vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo ciao Grazie a tutti E visto che ho messo i piedi a terra è il momento per qualche foto al mio kayak e ovviamente al panorama che ci circonda, ovvero la spiaggia dell'Avena e Enrico in kayak. Ancora qualche foto del mio kayak e di Enrico sul suo endurance e devo dire che siamo solo noi, è uno spettacolo, è uno spettacolo già il luogo di per sé ma quando si è da soli in luoghi come questo è uno spettacolo per l'animo. E qui un selfie ci vuole come ricordo di questa giornata e chiudiamo con un'ultima foto al mio kayak alla spiaggia dell'Avena. E dopo qualche foto si riparte. Allora Qui bisogna lavorare di precisione E di certo la GoPro non aiuta in gombra. Qui bisogna lavorare di precisione E di certo la GoPro non aiuta in gombra. E questo è il tempo più di farvi. Qui bisogna lavorare di esserephant. E poi anche sul corsa buono. Acqu network ci sua prima volta. Qualtà più lunga. e attraversiamo questo spettacolare tratto che è quello della scogliera dei traghetti grazie a tutti 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 grazie a tutti